Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Con le forbici con la punta smussata Togliendo possibilmente il libro di matematica e altri oggetti inutili Togli pure sta colla Colla assassina Adesso tagliamo il pupazzetto Attenzione a ritagliarlo senza rovinarlo Vedete che Gaia sta usando un cartoncino Così il pupazzetto sarà più rigido Allora siccome siamo un po' indecisi sul nome Ci facciamo aiutare da Alexa Vediamo un po', chiediamo ad Alexa Che nome possiamo scegliere per un mostriciattolo Chiediglielo un po' Alexa, dimmi vari nomi Ecco una risposta di un utente Mostro Tradotto da fandom.com Ganymes Era il nome dato a un mostro creato dalla neba spaziale nota come Yod Ganymes Che era arrivato sulla Terra con una sonda spaziale E' bruttissimo No, Alexa, non ci piace Alexa, vogliamo un nome simpatico per un pupazzo Tradotto da Cambridge.org Le parole quasi sempre usate per riferirsi ai burattini Sono muovi giochi con bambole di legno e ke lei zu 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 Alexa, stop Alexa, nome giapponesino Alexa, un nome italiano per un pupazzo Tradotto da zu.edu Gli italiani hanno diversi nomi per i burattini Alexa, stop Abbiamo deciso che lo inventeremo noi Perché Alexa non c'è stata di grande aiuto Allora, per esempio Come potremmo chiamare il nostro Per esempio Per esempio questo mostriciattolo verde Come si può chiamare? Il signor Che signor Signor mostro Che signor mostro Per continuare il nostro lavoretto Dobbiamo preoccuparci Procurarci un altro cartoncino Abbastanza grande Sul quale incolleremo alcune parti del pupazzetto Che poi andremo a ritagliare Vero? Sì Perché dovevamo già tagliare le braccia Praticamente Ecco, cominciamo con ritagliare le braccia Ritagliare Segniamo le braccia del mostro Così 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 e così Ecco Una lineetta seghettata Anche da quest'altra parte Ecco E adesso andremo a tagliarlo Ma che buona notte penna ho detto Le forbici Con la punta arrotondata E con l'aiuto di papà e mamma Questa qui no Ecco Quelle che tagliano meglio Il cartoncino Ma certo che questa no Perché questa È curva Per vedere le cose curva Quindi non serve Tagliamo L'abbiamo ritagliate Le braccia Eccolo qui Ecco Il povero mostro Adesso le braccia tagliuzzate Dobbiamo procurarci Della colla E dei pezzettini Di cartoncino Che ci sono avanzati Praticamente io per fare i lavoretti Uso sempre lo scotch Praticamente Perché la colla si stacca in due minuti Va bene Ora vediamo cosa utilizzare Adesso dobbiamo fare Anche il taglio del corpo Eh perché sennò poi come fa Ad aprirsi Ad aprirsi Allora Segna la parte tratteggiata Che andremo a tagliare Così Bene E quella adesso È la parte che taglieremo Ora la tagliamo Vi faccio vedere come si taglia questo Praticamente Dobbiamo tagliare così 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 Ora il povero mostro Non può camminare più Perché non ha più E non può fare più niente Per il momento Perché adesso diventerà un super mostro Spaventosissimo Perché praticamente noi poi Doviamo incollarlo su un altro foglio Praticamente Su un cartoncino Sì E poi Faremo in modo che si possano aprire delle parti E poi praticamente sotto Dobbiamo metterci Quando dovremo magari togliere questo Dovremo far vedere che qui c'è l'osso praticamente Qui perché quando lo apriremo Che toglieremo il braccio Poi lo toglieremo e dentro E poi ci deve essere Ci sarà l'osso del braccio L'osso del braccio Del mostro Della parte superiore Gaia puoi incollare per favore Questa parte di mostro? No 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 Con la colla per favore Con la colla Tu hai sempre fatto lavoretti Con lo scotch Eh sì ma viene male Usate la colla No usate la scotch Usate lo scotch Ma non è vero No usate lo scotch Questa colla Attac Evidentemente La colla Perché la colla non fa nulla Mettila bene dappertutto Anche sulle parti Delle braccia Sì Prima la metto però sulla testa Poi ci metterò pure lo scotch E poi ce lo potrò mettere pure lo scotch Sì Va bene Adesso metti la colla Su tutte le parti da incollare Anche sulle braccia E su questa parte del pezzo Pure sulla schiena Ora Bravissima Adesso Gaia ci fa vedere come attaccarlo Allora adesso viene tirato E viene messo al centro del foglio Più sopra Più sopra Più sopra Più sopra Più in alto Più in alto Qui Così Questa parte la lasciamo Ecco fatto E sotto ci dovremmo mettere Aspetta Allora intanto è incollato Bene È incollato benissimo Praticamente lo dovremmo fare Quanto Adesso appoggiate le parti ritagliate del pupazzetto Praticamente noi facciamo così E realizzate il contorno E poi noi cancelleremo tre pezzettine qui Le pezzettine qui Sì Per fare Beh Le dita Praticamente Le dita dell'osso Ed ecco qui il primo osso Allora qui abbiamo fatto una parte dello scheletro del braccio Così quando andremo a togliere il braccio del mostro Sotto avremo lo scheletro del braccio Sì Faremo così E diventerà spaventoso Sì Praticamente Chiaramente lo dobbiamo colorare Ci dobbiamo fare un po' di sangue E Preso il nostro caro rosso Il rosso Che cosa serve Per fare Provo da temperare Praticamente Ecco prima dobbiamo temperare il rosso Quindi dei colori a pastello Praticamente Perché se no i pennarelli magari si possono rovinare Perché praticamente questo Voi pensate che fosse pennarello Da qui Però invece è pastello È pastello Capito? Eh 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 Avete pensato E poi Qui c'è un po' di ombra Capito C'è un po' di ombra Per fare un po' di scuro C'è un po' di ombra Perché c'è la luce No Se facciamo così l'ombra non c'è più E qui si vede un po' di scuro Ah sì 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 Quell'ombra sua Sì perché è un mostro comunque I mostri sono spaventosi Allora adesso Praticamente per essere un po' più spaventosa Per la buca Ci deve fare per un po' di sangue Qui Un po' di sangue Dopo ce l'aggiungiamo Poi ce l'aggiungiamo Adesso Gaia Ecco adesso Gaia dovrà colorare il sangue Praticamente dobbiamo fare dei pezzetti Non tutto rosso Ecco fai vedere Ve lo dico perché se no poi magari qualcuno fa dei pezzetti rossi E fa tutto rosso Ma invece ve lo faccio vedere io come va colorato Qui ci va fatto un po' di così Un po' di così Un po' di sangue Un po' di questo Ecco A vostro piacere Fate in modo che diventi spaventoso questo mostro Ovviamente dovevo fare un po' di sangue Sì Perché se no poi come si fa a capire che ho un mostro Perché Certo Perché Perché Se voi non lo sapete pure nelle ossa abbiamo il sangue Eh noi sì Intorno alle ossa Nei muscoli Dappertutto abbiamo il sangue dentro il corpo Quindi Bene Ok Di momento un po' di sangue Poi voi se lo volete fare con Da tutte le parti che vi pare Fatelo Io farei anche i denti un po' arrossati di sangue Sì Perché è un mostro proprio da Poi pure sulle 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 dita Facendo un paio di denti rossi Ecco E con l'aiuto di papà Gaia Ha usato Abbiamo usato un pennarello Per fare il contorno più scuro Delle ossa Perché prima Era tutto fatto a matita all'inizio Pure Pure il corpo Perché magari Se sbagliavamo Potevamo cancellare Possiamo cancellare e rifarlo Voi vedete che adesso Questo braccio per esempio Già qui sopra Possiamo riposizionarlo Eh lo possiamo rimettere Ecco qui che il mostro Di questo braccio ce l'ha già Ancora Ecco Poi se lo togli Adesso faremo la stessa cosa Anche da questa Perché poi se lo togli questo Si vede lo scheletro Si togli il Braccio Si vede lo scheletro Con il sangue Che spavento Ora vi faremo vedere come Si ripassa Per realizzare l'altro braccio Ora vi faremo vedere come si ripassa Il contorno del mostro Togliamo Il braccio Prima l'abbiamo realizzato a matita Abbiamo fatto le ossa Poi vi faremo vedere come si fa pure la matita Adesso Gaia col pennarello Perché l'è grande Ma mamma mia Questo non funziona Come non funziona No questo L'ho fatto Pianino Che la matita Realizzerà il contorno delle ossa Così sarà più evidente Si vedrà meglio Allora brava Gaia Così Ecco Qua è tutto un tratto unico Praticamente Così Ora qui Poi lo cancelleremo Dello scheletro Ecco Chiaramente un mostro a quattro dita Non è a cinque come gli esseri umani È un mostro Adesso andremo a realizzare il sangue Su quest'altro braccio Cancellando un po' le sbavature Di matita Che si vedono ancora sotto Facciamo il sangue E poi andremo a fare il corpo Lo scheletro del corpo Vedere come si colora il sangue Capito ragazzi Ora faremo così Un trattino Un altro trattino Noi facciamo il sangue E lo coloriamo Praticamente Benissimo Ecco qui E abbiamo fatto il sangue Ora Anche cosa dovremo Mamma mia È proprio spaventoso Questo mostro Proviamo a coprire Le ossa Faccio vedere i denti Praticamente Ah sì 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 I denti insanguinati Di mostro E ora vi faccio vedere pure Lo scheletro Lo scheletro Ecco È spaventosissimo Ora praticamente Qui sotto Se ci dobbiamo fare Il corpo No Lo scheletro del corpo Se dentro ci dobbiamo fare L'altro po' azzetto Un po' azzetto dentro la pancia Sì Mamma mia Ma poi dentro A quel po' azzetto Ci dobbiamo Pure lui Lo dovevo tagliare Perché praticamente Dovevano fare un sacco Di pupazzetti Adesso insomma Andiamo a vedere Ora praticamente Cosa può fare Gaia Facciamo vedere Come si fa L'altro po' azzetto Ognuno può decidere Di fare quello che vuole Eh non è detto Che deve per forza Fare il mostro Può fare Può fare Pure altre cose Andiamo a vedere Noi posizioniamo il corpo Facciamo il contorno Così sappiamo che Sotto a quel contorno Ci sarà Uno scheletro E vi faccio vedere Come si usa la matita Praticamente Prendete una matita Che vi piace di più E poi Ci facete Ci fate Il contorno Praticamente Chi è che non sa Magari Ritagliare con le forbici Lo fa con i Genitori Ecco ora Ora che abbiamo realizzato Questo contorno Del corpo All'interno Possiamo Usare la fantasia E fare ciò che vogliamo Possiamo fare lo scheletro Oppure possiamo fare Un altro mostro All'interno del mostro Ci facciamo un'altra cosa Allora Gaia Ha deciso Di disegnare Un mostriciattolo All'interno del mostro Che ha una forma Di un uccello Vediamo un po' Ecco qui Intanto questa è la testa Vi faccio vedere Bene Questa è la testa Ora qui Poi Se volete sapere Che cosa dovremo togliere Sarà l'ala Dovremmo togliere l'ala Dovremmo togliere l'ala Praticamente Praticamente Adesso Questa è la coda E la coda Perché praticamente Che cosa è? Una zampa? Sì Praticamente Chi è che non conosce Questo Vabbè Ma disegna Gaia Parli Parli Disegna Ecco Ecco Facci vedere Poi Allora Questo è il mostriciattolo Che sta all'interno Ora praticamente Ci dobbiamo fare Pure noi Lo scheletro È un po' di scheletro Certo Così 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 Il nome Lo chiameremo Mostro degli abissi Oh Il mostro degli abissi Praticamente Quindi Dobbiamo scrivere il nome Qui sotto Questo sembra più un'acca Praticamente Mostro degli abissi Sei veramente spaventoso Con questi dentoni Insanguinati E le ossa E il pulcino Nella pancia Poveretto però Questo pulcino E qui scriveremo Dove si Ancora non abbiamo scritto No Mostro degli abissi Mare Mostro degli abissi Per ripassarlo meglio Magari lo potete fare così E chi non sa fare Bene La M Si fa così Eccola Eccola È veramente un mostro spaventoso Ragazzi non dovete avere paura di questo mostro Perché non è veramente cattivo cattivo Perché è un disegno È un disegno È un disegno È un disegno Vedete L'abbiamo fatto su un foglio Un cartoncino dell'album Così vi resterà Insomma È più robusto di un foglio di carta È più resistente Sennò magari Vedete Questo è bello Rubido E non è tanto bianco Come questo foglio Qui vedete Questo è più Uovo Uovo Più colore Al tegamino Al tegamino E questo è bianco Normale Va bene Questo è bianco nero E questo è bianco nero Va bene Comunque scegliete la carta che avete in casa Allora Il nostro mostro Adesso possiamo far vedere Il vestito il mostro Cioè con il corpo Sì Allora vediamolo di nuovo Il mostro degli abissi di Gaia Eccolo qui Ragazzi Fate anche voi il vostro mostro Ciao a tutti Questo lavoretto è finito Sto ritagliando Qualche altra cosa E ci vediamo Al prossimo video Sempre del mostro Con altri lavoretti di Gaia Con altri lavoretti miei Sempre del mostro Ciao 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 a dentro Ciao a tutti